bella a tutti ragazzi qui 3gamers bella bella siamo qui con una nuova chem realizzata non c'è neanche dire chi l'ha realizzata sapete già che descriverà la classe vextor quindi la scipola allora soliti per le mitragliette ormai non c'è più soliti ma fanculo invece una cosa siccome era da tanto la roxio quando stavo registrando era in sovraccarico e quindi vedrete qualche scatto mani nulla di che gameplay si capisce comunque è comunque ovviamente realizzato in solo questo gameplay bizon silenziata con impugnatura non è hd dislike l'impugnatura l'impugnatura con la bizon diciamo che fondamentale perché avevo provato a giocare senza e non mi trovo affatto tipo miri in basso trovi a tutto in tutto l'altra scena infatti prima di andare in stricca ero arrivato a dieci in questa partita e per esempio quando trovavo nemici lontani mi rifiutavo persino di sparare perché quella mezza è un po complicato decidere nemici lontani usavo supporto con sat con jubi e nitel solito ovviamente e niente allora un argomento che ci ha fatto abbastanza ingazzare che è successo in questo ultimo periodo è stato l'avviso che knockout verrà chiuso ecco se non l'avete visto fate un salto su facebook si dall'inside code passate anche da noi visto che ormai su tutti i video facciamo pubblicità adesso rotti il coglione siamo quanti? se volete essere attornati su i gameplay che realizziamo i video che caricheremo ogni settimana passate dalla fanpage e lasciate un bel like esatto comunque knockout sta per chiudere i battenti perché perché giustamente cri dopo aver ricevuto tantissime lamentele bla 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 insulti addirittura perché non li prendeva i gameplay dei bm ovviamente e ha deciso di chiudere quindi noi ci rimettiamo perché avevamo un bel paio di gameplay di realizzare per loro sia qualche montaggio visto che comunque adesso sia alessio che simone sono almeno ogni mese ormai uscirà un montaggio si sanno usare bene comunque i programmi da editor esatto io no perché sono un hub e vabbè e comunque si fino a tu ci dai le dai fino a due mese fa usavo windows muy mega no invece cosa ci stavo dicendo sia per appunto i montaggi che per gameplay vali comunque è stata chiusa e ci dispiace molto perché comunque era una delle community penso la più valida sì anche la più valida perché comunque ci ha portato molti iscritti sì poi non tutte le community danno una possibilità così ampia esatto e niente boh scrivete quello che pensate voi di questa cosa esatto eh boh per me è boh vi chiediamo anche apro una parentesi e vi chiedo di scrivere anche qua sotto nei commenti qualche gameplay da realizzare per il nostro canale che potrebbe interessare tipo doppia cammettico tanto per anche perché adesso abbiamo un gruppo su one quindi gameplay di simone ha iniziato a socializzare su one trovati degli italiani esatto wow vabbè no ovviamente comunque niente scrivete appunto le vostre impressioni quindi se conoscete qualche altra community che non sia Italian Overpower o Pro Game Italy che noi non conosciamo magari ci la potete consigliare visto che abbiamo qualche altro gameplay abbastanza buono esatto da smerzare via e niente boh il gameplay sta per finire T3G è tutto un attimo una clip bonus alla fine perché proprio ci sta è il video che ho guardato più volte su YouTube bella quindi bella 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 bella